Ho il piacere di avere al mio fianco Ivano Mignogna, notissimo parrucchiere e formatore, insignito di un premio di un riconoscimento davvero significativo e notevole, quello appunto di Maestro Artigiano, un riconoscimento che gli è stato conferito nei giorni scorsi presso appunto la Fiera del Levante e consegnato personalmente dall'assessore regionale allo sviluppo economico, Mino Borracino. Che dire di Ivano Mignogna, le sue qualifiche, i suoi titoli sono plurimi, li cito ma sicuramente sarò impreciso perché sono pochi, tecnico aziendale e stilista aziendale, manager della Diffusion i viennesi parrucchieri, fondatore della scuola di formazione i viennesi educational, creatore dei brand per essere uguali a nessuna e giovani e bravi. E allora, Ivano Mignogna, un premio che non solo riconosce e afferma la professionalità ma è testimonianza di serietà appunto conquistata in decenni e decenni di lavoro. Sì Luigi, è un premio che arriva in un momento particolare naturalmente di una carriera lunga e intensa. Questo riconoscimento così definito istituzionale ha un sapore naturalmente particolare perché è un'istituzione che ti riconosce qualcosa, quindi non è un'azienda, non è un'organizzazione di cui uno fa parte. Quindi nell'intimo c'è una grande gioia, una grande soddisfazione che dà anche delle responsabilità ancora maggiori rispetto a prima perché adesso con questa cosa che cambierà più o meno ben poco nella mia vita professionale però l'attenzione e la responsabilità sarà sempre più alta. Ecco, ricordiamo che Ivano Mignogna è davvero una perla, un'eccellenza Tarantina perché è l'unico maestro artigiano riconosciuto tra i 39 pugliesi appunto che sono stati premiati. Quindi l'orgoglio tarantino trionfa. Sì, trionfa e io sono contento di essere diciamo il primo ma adesso naturalmente anche per il mio ruolo di responsabile delle categorie farò in modo che anche altri colleghi seri e impegnati nella professione possano accedere a questo titolo prestigioso. Ricordiamo che lei appunto presiede il comparto relativo al suo settore in Casa Artigiani. E Mignogna, lei non solo è un professionista affermato ma è un formatore. Ecco, questo è un ruolo importante perché significa insegnare l'attività alle nuove generazioni. È un qualcosa appunto che dà veramente una soddisfazione perché si lascia nelle future generazioni parecchio di sé, del proprio impegno, della propria professionalità. Io non riesco a fare una scissione diciamo dalle mie professionalità, quindi da formatore, da stilista parrucchiere, da uomo, da padre, da compagno. Io sono un uomo che cerca di fare e di trarre da sé il meglio, lo faccio anche come cittadino per cui l'orgoglio di essere tarantino, l'orgoglio di aver investito in questo territorio che in questa circostanza mi ha dato una soddisfazione molto grande, molto particolare. Io sono sempre, come ripeto, sono una persona soltanto, quindi cerco di fare il mio meglio, cerco di trarre il meglio da me stesso e quindi è questa la... Un impegno di Ivano Mignogna, professionale certamente, nell'ambito della formazione, ma anche un impegno sociale. È uno dei protagonisti, uno dei soggetti più attivi per quanto riguarda la banca della parrucca. Ci riferiamo ad una iniziativa appunto con la Lilt a favore delle donne, appunto che in regime di chemioterapia ovviamente hanno bisogno anche del lato estetico. Sappiamo le conseguenze, gli effetti collaterali della chemioterapia, la perdita dei capelli e avere un ristoro morale in una parrucca dà la speranza, dà la forza per combattere. Lei è molto sensibile rispetto a queste tematiche. Se siamo amanti della bellezza non si può non considerare tutti gli aspetti della bellezza. Io, come ho già risposto alla dottoressa Suma, al presidente della Lilt, sono io che ringrazio la Lilt perché attraverso questa collaborazione io mi arricchisco, cresco e anche il mio mano, voglio dire, ha una gratificazione. Quindi mi sento molto utile e do un senso alla mia professione che non è soltanto, voglio dire, legata soltanto a un fine estetico e basta. C'è molto di più ed è quello che io come formatore, come stilista, è da anni che cerco di diffondere questo, anche a scuola con i miei allievi. Non basta saper usare soltanto le mani, saper fare un ricetto con le mani. Questo è Ivano Mignogna, maestro artigiano, maestro di vita a 360 gradi. Grazie.